L'ultima volta che ho avuto il piacere di parlare e di stare assieme a lui eravamo ad Alassio e sono tornato a casa con due o tre paperelle di plastica. La prima volta lui venne invece a Udine, credo in Confcommercio, prima del 2006 e fece alcune lezioni di marketing e di comunicazione a dei professionisti. E' diventato un amico, Edoardo Cognonato ci intratterrà su quello che penso sia alcune necessità per noi istruttori. Grazie mille Ernesto. Buon pomeriggio a tutti. Come state? Siete motivati ad ascoltare di nuovo seduti per un'oretta? Perché io devo motivare voi adesso? Siete andati in immersione, giusto? Quindi avete fatto attività fisica. Avete fatto una spaghettata in barca? Si so, se ho sentito bene. A sentire il menu ho detto dovrò tenere la curva di attenzione elevata perché forse avranno la fase di cestiva del dopo pranzo che ha bisogno di stimoli. Allora io mi presento, mi chiamo Edoardo e ho notato che fai giusto il cognome. Cognonato. Perché con la GN, da quando ero bambino, ho subito traumi infantili mettendoci la GL. Io sono nato a Treviso, sentite la cadenza trevigiana? La S davanti alle scuole medie è stato il trauma che ha rinforzato la dose. Esisteva già il bullismo negli anni 60. Io sono nato nel 1960. E cosa mi è successo? Mi è successo che ogni due anni cambiavo classe, perché mio papà si trasferiva per lavoro. Cosa mi succedeva? Che ogni anno in tutte le classi ero lo zimbello e volutamente, coglionato, mi ha seguito per tutta la vita. Oggi ho 58 anni quasi e continua a esserci il suo trauma. Facevo le gare di nuoto, corsia 4, coglionato, il pubblico rideva, il mio allenatore mi guardava, io mi sentivo sui due coglioni sul blocco di partenza, partivo e lui mi diceva, tu nuoti zavorrato in gara, hai la sensazione di avere le zavorre. E quindi questa eredità ogni volta che mi presento, non più tardi della settimana scorsa, sono andato in un'azienda importante, e c'è qui il signor coglionato che lo aspetta, l'amministratore delegato. Quindi ci ho fatto il callo. Mio figlio che ha studiato psicologia, anche lui mi dice, sai che ho scoperto che si può cambiare il cognome? E ho detto, poi a 18 anni mi fa, però sai cosa ho capito? Dobbiamo essere orgogliosi di questo cognome, perché vuol dire coglionato, cioè è nato coi coglioni. E quindi sono qua a prendermi un po' in giro, perché sono il primo che ha dovuto studiare motivazione, non per il lavoro che faccio, che è divulgarla e applicarla a tante situazioni, che sono quelle delle aziende, ma sono anche quelle delle persone, delle famiglie, degli atleti. Vi dicevo che sono stato un nuotatore, purtroppo nella mia squadra, Rarinante Spatavio, in Padova, c'era una certa novella a Caligaris, io volevo diventare, sapete chi era? Qualcuno sa? Era la Pellegrini degli anni 70. Volevo diventare un campione, anch'io non ci sono riuscito. Quindi la mia esperienza è il fallimento. La mia esperienza è aver applicato quello che mio papà mi ha insegnato, volere potere, averlo applicato con disciplina, con metodo, con dedizione, con obbedienza, e di non essere riuscito a diventare campione. E quindi il fallimento mi ha fatto soffrire molto, e la motivazione è stata la mia curiosità per capire come evitare di avere paura di fallire in tante altre cose nella vita. Perché se hai un'esperienza negativa così forte, rispetto ad altri che sono diventati invece campioni, i miei coetani, ti porti dentro o un complesso di inferiorità, o un proverbio che inizia a costruirti nella mente. Meglio non sognare per non soffrire. Non so se vi rende l'idea. Quindi la motivazione mi ha aiutato a sperimentare questa cosa che vedete in questo studio, che vedete in questa lampadina. Qui è una lampadina che si accende non con un interruttore, ma con un meccanismo che è un meccanismo emotivo. Io parlo di intelligenza emotiva. Quindi oggi cercherò di divulgarvi, come faccio da circa 30 anni, quali sono i principi della psicologia motivazionale, soprattutto quando ci si occupa di aspetti inconsci. Vi interessa l'argomento? Inconsci. Qui cosa vedete nella O di motivazione, in questa diapositiva? Cosa c'è di originale? Cuore. Ovvero, vi porterò come fa Piero Angela a Quarche, che secondo me ha 90 anni, è un mito, per come sa spiegare. Ho apprezzato molto la presentazione di Pasquale. E qui Pasquale? Ho apprezzato molto rendere semplici le cose che non sono facili. Piero Angela lo sa fare molto bene. Io cerco di spiegarvi alcuni concetti semplici, con delle immagini e con dei, tra virgolette, una specie di proverbi, perché vi resta impresso quello che poi nella psicologia si studia con dei trattati e degli approfondimenti. Questo cuore al posto della O è un po' l'essenza della giornata, del pomeriggio di oggi. Metterci il cuore. Ho lavorato a rivolto, vicino a, dove siete voi a Udine, con le frecce tricolori e con Massimo Tamaro, capitano delle frecce tricolori, su come si motiva un'equip di nove piloti dell'aeronautica a fare delle esperienze acrobatiche incredibili, in sicurezza, che facciano fare wow al pubblico e che rendano orgogliosi gli italiani di avere una pattuglia che rappresenta la bandiera italiana. È un concetto emotivo. Lo slogan delle frecce tricolore è cuore collegato al cervello. Quindi metterci il cuore nelle cose che si fanno, io penso spesso a Benigni con la Divina Commedia e penso spesso alla mia professoressa del liceo, in terza, quarta e quinta liceo, c'è Dante, tre ore di inferno, in terza, tre ore di purgatorio, in quarta, tre ore di paradiso, in quinta, per me era sempre inferno, cioè, du maron, non so se rende l'idea, cioè io quando c'era Dante era un supplizio. Il 29 di settembre del 2005, un anno prima che ci conoscessimo, all'Arena di Verona, Benigni, quinto canto, Paolo e Francesca, quinto canto di inferno. Sono rimasto coi brividi perché ho sentito chi era veramente Dante. Cioè mi è entrato dentro che cosa? Non le spiegazioni, la sa tutta memoria, non so se sapete, Benigni sa tutta la... non un canto, sa tutti i canti a memoria. Ma non la spiegazione o la bravura o la competenza. Cos'è che mi è passato? Le lacrime che aveva nell'ultima strofa e cadde, come corpo morto cade, parlando di Paolo tramortito dalla bellezza di Francesca. E cos'è che è successo? Benigni aveva i brividi, di conseguenza io avevo i brividi, di conseguenza Dante mi fa venire i brividi. Non so se vi arriva il messaggio. Se avete visto un film che parla di questa capacità di far sentire col cuore i sentimenti e le emozioni alle persone, figli, allievi, amici, colleghi, ma a volte se stessi, se avete visto l'attimo fuggente, il film Carpe Diem, sapete che quel professor Keating di inglese riesce a motivare una classe in un modo non convenzionale, non per prendere voti ed essere bravi, diligenti, ma per fare un'esperienza in più, per essere wow, figata la letteratura, figata leggere poesie, figata invece di leggere solo l'antologia, cosa dicono gli esperti delle poesie, leggere le poesie e andare nella caverna tutti quanti assieme a sperimentare cosa vuol dire succhiare il midollo della vita. Non so se l'avete visto il film, certo che quando il ragazzino più imbranato della classe, quello più timido, quello più inibito, monta in piedi e onora il professore che viene cacciato via chiamandolo o capitano, mio capitano, tutte le volte ho i brividi anche adesso mentre ve lo racconto perché è una storia vera, cioè un ragazzino sfigato può diventare il campione della situazione. Da cosa dipende? Beh, molto dipende dal talento del ragazzino che era allo stato potenziale, ma moltissimo del professor Keating. Vi arriva? Che poi la metafora sia, il professor Keating o Benigni o il mio ex allenatore di nuoto Gianni Gross che è mancato due anni fa la questione è motivare a che fare con emozionare e noi possiamo emozionare in psicologia lo si studia in modo scientifico solo a una condizione, una, devi essere emozionato tu, proprietà transitiva. In Oriente chiamano questa filosofia karma, il karma se circola contagia e non si muove mai in modo lineare il karma, il karma si muove a spirale, si espande, circolare, contagia. Quindi quando io lavoro nelle aziende e lavoro con dei marchi molto molto importanti, ho la fortuna di incontrare alcuni manager, alcuni imprenditori di multinazionali che mi chiamano per allenare questi semplici principi nel loro team partendo dai manager, cosa scopriamo? Che i marchi che fanno la differenza stanno investendo molto nel contagiare non prima i clienti, ma prima di tutto il team e prima di tutto chi coordina il team? Cioè i leader. Io penso che oggi qui ci sono dei leader da quello che ho immaginato, da quello che so, giusto? Cioè voi siete di questa associazione, di questa entità che promuove una cosa importantissima, che può dare emozioni incredibili, scoprire che cos'è la magia dell'acqua da sotto e non da sopra. Beh, voi avete la possibilità di fare quello che stanno facendo tanti altri in settori di business, ma lo si fa anche nel volontariato. Questo tipo di approccio io li faccio con i medici del sorriso, Patch Adams, avete presente Patch Adams, VIP, vivere in positivo. Contagiare i medici non solo a passare terapie, ma a passare emozioni che incrementino la fiducia nella guarigione. E contagiare chi? Per esempio il personale paramedico, per esempio le infermiere, per esempio gli assistenti, per esempio tutto quel gruppo di persone che può fare team con il paziente, che si trasforma da participio presente di portare pazienza, paziente, a P di persona. Se rivedete lo stesso attore, avete presente chi è? Robbie Williams, che ha interpretato l'attimo fuggente, lui ha interpretato anche Patch Adams, medico del sorriso, e scopriremo riguardando quel film cosa vuol dire occuparsi di persone e non di corpi. Ora io sto usando dei messaggi, dei parallelismi, che sono semplicemente il perché il cuore fa così la differenza. Perché essere innamorati, appassionati e non semplicemente infatuati, innamorati, vuol dire che delle volte lo coltivi questo sentimento, perché la fase dell'innamoramento è piacevole, ma sappiamo che dura X, l'amore lo si coltiva e dura Y, è una strategia ma anche una filosofia. Quindi metterci il cuore nel business, nei marchi, nel volontariato, nelle iniziative, nell'educazione, nel tirare fuori potenzialità dai nostri allievi, io sono oggi istruttore, voi siete allievi, metterci il cuore, abbiamo scoperto in psicologia che fa veramente la differenza e ci sono alcune regole di base che possiamo applicare tenendo presente che bisogna avere in cuore una domanda. Cos'è Y? Cosa vuol dire in inglese? Perché? Ora oggi voglio farvi una carrellata di suggestioni e di stimoli, ma c'è su YouTube, vi chiedo di andarvelo a guardare, poi questa presentazione ce l'avete già in file pdf, c'è un certo Simon Sinek con la kappa finale, Simon Sinek, partire dal perché, secondo me dovrebbe essere obbligatorio leggere questo libro, non ci vogliono tante settimane, con due, tre paginette al giorno nel giro di cinque settimane, sei, lo leggete, ma va meditato, partire dal perché, è una filosofia, nel marketing oggi c'è la rivoluzione, i marchi devono ripartire non da cosa fanno e da come fanno meglio degli altri, ma perché fanno quella cosa che fanno? Il primo ad interpretare questa filosofia in modo incredibilmente potente, nel cambio di millennio, è stato Steve Jobs, partire dal perché. Ora non entro nel dettaglio di quanto quello che vi sto dicendo della motivazione si applica oggi nel business, ma vorrei che voi leggeste queste slide con la cultura di dire, tornando a casa, sarebbe bello continuare a avere il processore sensibile su questi stimoli, partire dal perché. Il perché è il nucleo, poi viene come facciamo quello che facciamo e poi cosa facciamo, il cosa può cambiare, Apple può fare telefonini, può fare orologini, può fare computer, può fare qualunque cosa, ma la questione è come lo fa? Eh beh, lo fa molto diverso dagli altri, soprattutto perché lo fa. Per Steve Jobs è ribelli contro il sistema, la tecnologia va dominata dall'uomo, non va subita, quindi tu essere umano la domini e la fai diventare tua. lui non so se sapete era un hippie, era stato in India da ragazzo e aveva una visione rivoluzionaria del modo in cui vivere la vita, ha portato questa visione all'interno del suo marchio. Io trovo che questo oggi debba accadere in tutti i marchi, io ho lavorato a suo tempo, Renzo Rosso per me è stata l'affolgorazione sulla via di Damasco, lo dico sempre, 1991, Diesel, fondatore di Diesel, ribelli, be stupid è il suo slogan, ha scritto un libro, be stupid, le cose stupide che sembrano stupide sono quelle che stupiscono, il mercato ha bisogno di stupore, non ha bisogno di convenzione, ha bisogno di uscire dagli schemi. Ho sentito prima la citazione dell'ovetto kinder, chi di voi ha già sentito la mia sessione, avete presenti i bambini alla cassa del supermercato, me lo prendi, me lo prendi, cos'è che chiedono? Sembra che chiedano l'ovetto kinder, in realtà che cosa chiedono? Me lo prendi, me lo prendi, perché cercano quella cosina gialla che c'è dentro l'ovetto, che non è la cioccolata, cosa cercano? Wow, cercano sorprese e la kinder sa fare molto bene il business delle sorprese, perché le studia, le elabora, le sorprese cambiano generazione dopo generazione e ce ne sono in migliaia di opzioni per evitare il rischio di avere due volte la stessa sorpresa, perché ci mettono il cuore, non nel fare la cioccolata buona, ma nel far percepire la sorpresa della cioccolata buona, la cioccolata buona per definizione, i vostri corsi devono essere buoni per definizione, la sicurezza di quello che offrite è buona per definizione, la qualità, l'organizzazione, il metodo, la replicabilità, la standardizzazione, l'affidabilità per definizione, cioè non è su quello che si fa il vantaggio competitivo, se vogliamo motivare dobbiamo emozionare, la Divina Commedia è la stessa da quasi 800 anni, è il modo in cui la presento, andare sott'acqua può essere rivoluzionario se diventate tra virgolette dell'Apple, della subacquea, io lancio spesso sfide ai miei clienti, ma vi parlo anche di marchi molto importanti, ultimamente sto lavorando con Mazda, non so se qualcuno conosce questo marchio, Mazda, tecnologia, perché ormai la tecnologia appartiene a delle specie di società alle quali tutti si appoggiano, cioè i motori li fanno società esterne, la carrozzeria, i telai li fanno, è il modo in cui serve il cliente e lo fai diventare appassionato al marchio e quello lo fanno solo le persone, non lo fanno i marchi, la pubblicità lo promette e il cliente lo percepisce, vi arriva questo messaggio? perché la relazione che c'è dietro ha a che fare con che perché abbiamo dentro noi in quello che facciamo, sicuramente quello che ho ascoltato oggi facendo due chiacchiere stamattina, qui c'è molta passione nella vostra associazione, giusto? Da quello che so voi non siete for business, cioè voi siete no profit, quanto conta la passione, quanto conta e soprattutto quanto conta trasmetterla perché averla è una cosa, trasmetterla gli assomiglia, ma non è la stessa cosa, quindi imparare a trasmettere è fondamentale e imparare anche a fare metodo, avere la matematica, la grammatica, scegliete voi l'architettura, scegliete la metafora per trasmettere insieme perché se tu trasmetti bene, tu trasmetti bene, tu trasmetti bene, ma non siete in sinergia bene fra di voi, cosa succede? A me il messaggio non arriva potente come quando voi siete uniti, vi serve una metafora per capirlo? Quando una mamma trasmette bene un papà trasmette bene, ma non sono i beni in sinergia fra di loro, che cosa succede? Il bambino il messaggio non lo ricepisce intenso come quando la mamma e il papà glielo dicono insieme, vi arriva? Se il presidente di una squadra sportiva, l'allenatore di una squadra, il dirigente e il massaggiatore e il tecnico preparatore atletico sono uniti il messaggio ai giocatori gli arriva tosto? Ma se per caso non sono uniti, io lavorando con molte squadre lavorando anche con degli allenatori molto forti, cosa si scopre? È il modo in cui il messaggio trasmette emozioni, l'unione si dice fa la forza. Quindi il concetto dal quale fai la slide per favore? Vorrei farvi vedere, oggi vi ho preparato tre frecce e spero che andiate a casa con ricordo di che cosa significa. La prima, la seconda e la terza sono tre frecce differenti. Nella motivazione bisogna agire e saper scoccare tre frecce. Lo può fare tra virgolette uno dei vostri neo-istruttori oppure lo può fare un senior che forma gerarchie di istruttori, lo può fare il presidente, lo possono fare i dirigenti, gli ispettori, io non so come sia organizzato, ma tutti potete decidere di diventare bravi a freccette. Bisogna averne tre e una è rossa. Vi tengo un po' curiosi perché questo lo scopriamo lungo il percorso. Queste tre freccette ci aiutano a scoprire quello che vedete adesso in questo filmato. Vi chiedo di guardarlo con un po' di curiosità e di notare. Sono tre minuti un po' curiosi anche se sembra che non c'entri niente con l'apnea ma vi invito a scoprire cosa notate. Ok? Fate attenzione. Ci siete? Andiamo? Il titolo è Bambina che scopre la piozza. Bambina che scopre la piozza. Bambina che scopre la piozza. Vattenzione. Andarie. Vattenzione. Vattenzione. Continua. Vattenzione. 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 Sì, sì, sì. oh my god but we sleep apart so the last time for the last time I dream to hold you in my arms I dream to hold you in my arms to hold you in my arms to hold you in my arms I dream so I dream What's the most impression? The mother encourages What do they do? What do they do? You are a mother? Is there a mother? What do they do? What do they do? You are the one there so they do it so they do it very special they usually do it they take the heat right? This mother allows you to do an experience brav you know experience this is the word technique that is used in psychology experience 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 has the x per ricordarvi what is an experience there must be the x factor the x factor the x factor the x factor the experience with the x wow that girl what did she say to a certain point wow what have you seen? two times what did she do? she did the red 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 si comporta, lo dovete spiegare non solo in teoria ma in pratica e dopo bisogna impararlo, impararlo, impararlo e renderlo automatizzato e fate il corso che dura x settimane o mese perché bisogna certificare, che cosa? Le competenze dell'emisfero sinistro e un bravo istruttore non solo le deve sapere le deve saper spiegare bene fin qua ci siamo, emisfero sinistro, divina commedia, la mia professoressa a questo punto però possiamo decidere se vogliamo collegare il sinistro col destro, bisogna essere capaci di fare una cosa in più e quella cosa fa la differenza per la motivazione per la sicurezza no, ma per la motivazione sì, cos'è la motivazione? Accendi il fuoco camminetto, diavolina, accendi oh con la diavolina cosa succede? Parte subito il fuoco la dopamina è la diavolina del camminetto metafora, vi rende l'idea? Avete presente la diavolina? Ora la dopamina è necessaria perché noi esseri umani decidiamo di partire in un'avventura, di fare uno sforzo di fare un cambiamento di spendere dei soldi di scegliere quell'azione di dire adesso studio invece di giocare a pallone serve dopamina e la dopamina cos'è che la procura? Un'abilità del cervello di produrla i bravi trainer i bravi educatori i bravi genitori i bravi motivatori sono quelli capaci non solo di dare le istruzioni emisfero sinistro ma di confezionarle con dopamina e la dopamina è tutto frutto di una grande qualità la qualità dell'ovetto kinder che qualità l'ovetto? Sorpresa e quindi come si chiama produrre sorprese in termini pratici? Emozionare come? Con quale emozione? La curiosi? Avete presente cosa fa Piero Angela prima del telegiornale quando parla di porta a porta? Ti fa vedere per 30 secondi gli ospiti te li fa vedere in ombra e tu dici chi cazzo sono questi? Avete presente gli ospiti di porta a porta? E c'è questa musichetta sottofondo e ti fa scoprire dopo tre si chiamano teaser le fasi in cui ti incuriosisco e ti tengo inchiodato dal punto di vista inconscio a seguire e volerne sapere di più non è altro che una tecnica per incuriosire così come l'ovetto kinder incuriosisce oppure se mio figlio stasera un figlio di sotto i 10 anni di solito lo voglio portare fuori andiamo a mangiare qualcosina fuori? Sì dai andiamo io in mente la pizzeria piuttosto che il sushi piuttosto che la trattoria dove si mangia una fiorentina della madonna dove vuole andare mio figlio sotto i 10 anni? Dopodiché ce lo facciamo piacere anche noi adulti diciamo ma sì una volta ogni tanto ma sì dai e che cos'è che facciamo? Mangiamo adesso scusate sono le patatine sono le patatine più buone del mondo di McDonald's gli hamburger più buoni del mondo ma che cos'è che lui ha trovato da McDonald's che ha detto figata wow da piccolino col cervello ancora plastico in neurotrasmettitori molto recettivi ha scoperto che McDonald's gli vuole bene gli fa sempre il regalino happy intanto glielo confeziona come gioco gli mette i giocattoli all'esterno e fa sì che ci sia dopamina prima ancora di mangiare lui è già in fase di droga cioè ha già preso la prima boccata di una sigaretta nicotina difficile per chi fuma una boccata solo e poi la spengo stessa cosa succede con la Nutella avete presente Nutella? è quel prodotto Kinder è sempre di Ferrero avete presente Nutella? se ce l'hai in casa Nutella cosa fa? ti fa l'occhiolino perché tu te la metti sempre ad altezza occhi provate ad andare a casa e guardate se non è altezza occhi tu apri l'armadio e lei e tu dici io mi so controllare e lei dice davvero? te lo dimostro un cucchiaino dopo cena non ha mai fatto male a nessuno apri cucchiaino parte la dopamina il cervello va in trance avete presente che lo sguardo di uno dice sono in trance chiudo e mentre la chiudo lei mi dice te l'avevo detto io mi so controllare io mi so controllare io mi so controllare però non l'ho livellata bene gli do solo una livellatina la sistemo un attimo si chiama razionalizzazione quando il destro pulsa il sinistro obbedisce non subito voi ridete ma è così al punto che dopo la seconda la dopamina in circolo la dopamina pulsa tu che cosa fai? cazzo una trasgressione o è fatta bene se no che cazzo è trasgressione e allora dici adesso mi punisco e via tutto il barattolo iniziano i rave party di Nutella e Nutella lo sta facendo in versione famiglia sta di fatto che Nutella con questo meccanismo il signor Ferrero che era uno che si faceva abbastanza i cazzi suoi cioè Ferrero Kinder e Nutella ha fatto più soldi Berlusconi ma non è che è andato a dirlo in giro il signor Pietro Ferrero morto due anni fa il concetto è che questa dopamina in circolo ha degli impulsi che sono delle impennate è difficile contrastare la dopamina quando è in circolo cioè la dopamina è una droga che il cervello quando la percepisce va in trance l'abilità dei motivatori è farla attivare produrla una signora in un corso rideva ma dopo un po' piangeva mi ha detto dottore lei mi ha detto una verità mi sono vista nel film cosa devo fare non riesco a smettere lei ha mai pensato di non comprarla sta Nutella io ci ho provato ma lei salta dentro al carrello al supermercato salta dentro io me la ritrovo dentro io penso sempre ai miei nipotini pane e Nutella la danno ai campioni di calcio a quel tempo c'era e come faccio a non dargli pane e Nutella poi io so di averla in casa ho chiesto a mia figlia di nascondermela mi sono trovata a fare la caccia al tesoro di notte a trovarla e allora l'ho congelata dentro il freezer l'ho congelata sapesse le scagliette di Nutella le scagliette di Nutella congelata e poi mi fa e l'ho messa nel microonde congelata con tre minuti e trenta viene fuori che fa il ricciolo il ricciolo allora guardandoci negli occhi ci siamo detti effettivamente è così cioè la dopamina ha dei picchi molto forti e ci sono alcuni precursori della dopamina che dimostrano la potenza di questo neurotrasmettitore l'eroina è uno di questi la cocaina è uno di questi ma anche la nicotina è uno di questi anche l'alcol è un precursore di dopamina quindi vorrei solo dirvi che l'abilità è incuriosire e fare in modo che scatti questo neurotrasmettitore a volte non abbiamo tempo di farlo a volte non abbiamo voglia di farlo a volte ci dimentichiamo a volte non sappiamo quanto è importante farlo vi è arrivato il messaggio con i figli con le persone che vogliamo motivare con gli allievi ma soprattutto con noi stessi dovremmo ricordarci questo principio io faccio divulgazione su come si usano delle tecniche per produrre nel nostro cervello e in quelle degli altri dosi di dopamina che motiva che incuriosisce diciamo che un insegnante che sa incuriosire è molto più potente di un insegnante che obbedisce alle consegne e che è diligente e osservante che però ve lo spiego meglio perché forse non mi so sono troppo volgare ci sta? io sto per compiere 58 anni mio figlio a 50 anni mi fa un regalo papà ho deciso di farti un bel regalo Ermano aveva 8 anni corso di snowboard snowboard cos'è? ah sì quello là che fai tu quando vai giù perché io lo porto in montagna io lo guardo io che ho sempre fatto nuoto la caviglia del nuotatore non so se sapete in tutti gli sport di equilibrio c'è proprio accettività a zero e dico snow ma perché? ma perché io mi sono stufato tutte le volte che tu mi accompagni tu stai giù a leggere i tuoi libri stai là col telefonino e lavori col computer mi aspetti nel rifugio io sono là da solo che vado su e giù facciamo una cosa insieme e mi ha dato una lezione come sanno fare i bambini finché ho capito che dovevo farlo almeno per lui perché io di sport di scivolamento zero prima lezione di snowboard tutto bardato l'istruttore mi spiega tutte le cose da non fare per non farsi male mi spiega tutti i sette principi per non farsi male me li descrivi così bene che per ognuna di questi comportamenti io mi vedevo A che avevo battuto il culo B con questo è il modo migliore di farsi male alla spalla questo se non vuoi sbattere il mento devi fare così questo per la clavicola cioè mi ha spiegato tutto quello da non fare e io il cervello dove ce l'avevo nelle istruzioni mi aveva incuriosito non tanto tant'è che io più ci provavo e più mi mettevo in piedi sulla tavola più scivolavo indietro tutto preoccupato a 50 anni mettersi a fare queste brutte figure davanti a tutti gli altri c'erano anche i bambini che imparavano cioè mi sentivo sudato fradicio ma la mia proverbia era volere potere volere potere io non mollo io non mollo dopo tre lezioni continuavo a battere il culo avevo un male al culo mi mettevo un beretto di pellicciotto qua sotto che mio figlio mi prendeva per il culo che sembrava paperoga mi diceva che sembravi paperino e lo mettevo per non avere male perché era umiliante questa cosa ma non volevo mollare è passato il maestro di Ermanno il maestro gli faceva fare i salti mi guarda mi fa quelle belle curve che fanno con la neve e mi arriva in fianco mi fa sei il papà di Ermanno batti cinque mi batti cinque e cado giù tu mi sembra che hai troppa paura di cadere cioè l'ho detto mi stai su cazzo cioè già l'altro ci mancava solo questa mi fa ma tu arriva anche Ermanno che si ferma lì vai sciallo papi vai sciallo io ho detto scialle adesso non sapevo che sciallo avesse quella terminologia che forse voi conoscete meglio di me e mi dice tu hai paura di cadere questo è il tuo problema è vero perché sono caduto tanto vieni con me perché la cosa bella dello snowboard è cadere in che senso sì nello snowboard tutti cadiamo soprattutto i campioni la cosa bella è cadere ma divertendosi le cadute bisogna saper ruzzolare tirarsi su è così è tutta una questione di cadere risalire però bisogna saperlo fare vieni che facciamo cadute inizia e mi fa ma devono essere plateali perché la neve la neve ti accoglie se sai cadere bene mi è venuto in mente quando io facevo il maestro di nuoto l'acqua ti accoglie se ti apri bene ti rilassi avete presente l'acqua l'alleggiamento con i rigidi tutti bloccati che vanno sotto più si muovono più vanno giù se ti rilassi e ti apri ho iniziato a dire aspetta che faccio come facevo io con la scuola nuoto ho iniziato a fare cadute plateali cioè però non a cadere rigido a cadere come i bambini aprendomi plastico e sapete cosa succedeva? nelle cadute ho iniziato a ridere a divertirmi a dire si può cadere senza farsi male cadere è bello e ho iniziato a lasciarmi andare e sono diventato fanatico di snowboard vi è arrivato il messaggio? sono diventato fanatico di snowboard perché? perché lui è riuscito a accendere la dopamina che l'altro non riusciva a accendere tutti e due volevano fare bene il loro lavoro ma uno lo sapeva fare meglio cioè non mi dava solo le istruzioni mi dava la emozione e l'emozione più potente era la curiosità e la fiducia che sarei riuscito a gioire anch'io di che cosa? piccoli passi compreso il cadere bene è applicabile nel vostro settore? gli errori farti intelligente divertendosi ma che bello che è poter sbagliare e imparare dagli errori in un modo divertente quindi quello che sto cercando di dirvi è che tornare bambini si dice in psicologia è il segreto per ricordarsi questi principi ma noi cresciamo in una cultura che ci fa dimenticare di essere bambini e ci fa sentire un po' in imbarazzo se siamo bambini perché considera essere bambini una cosa infantile be stupid vi ricordate Renzo Rosso? le cose stupide allora voi adesso mi state dicendo di sì ma io ho bisogno delle prove che torniamo tutti quanti a casa un pochino più bambini ho bisogno che mi date fiducia mi date fiducia? ve la sentite di essere bambini per 30 secondi veramente? se ci riesco questo va agli atti e lo filmiamo ok? mi raccomando per cortesia vi chiedo di alzarvi tutti in piedi tutti in piedi e facciamo un test è un test di intelligenza emotiva allora vi chiedo di scegliere un compagno o compagna che non sia della vita cioè non marito e moglie piuttosto che amici una persona accoppiarsi accoppiarsi nel senso uno davanti all'altro uno uno non quattro uno coppie avete 10 secondi per scegliere un compagno in piedi uno davanti all'altro in piedi uno davanti all'altro 10 secondi guardandosi negli occhi mi avete promesso che diceva avete detto di sì allora a questo punto senza guardare me seguite le mie indicazioni questo è un test importantissimo uno guardarsi negli occhi due con le braccia lungo i fianchi ok? braccia lungo i fianchi guardate voi stessi non guardate me ho bisogno di silenzio primo test attenzione uno dei due si presuppone il più intelligente dirà uno via ecco questo è il più intelligente dei due l'altro gli risponde due e chi è partito dice tre poi si continua uno due tre senza mai sbagliare rispettando il turno ma la regola è guardarsi negli occhi uno due tre uno due tre fino a quando io non dico stop siete pronti? tre due uno via uno stop siete riusciti a fare giusto? qualcuno? avete fatto qualche errore? sì ah e sì che era un esercizio complicato cioè uno due tre adesso vediamo il livello di intelligenza della squadra con un piccolo test di difficoltà l'uno non si pronuncia l'uno è sostituito da un gesto battito di mani solo il due e il tre restano verbali pronti? tre due uno via stop ho sentito degli uno li ho sentiti avevo detto solo le mani guardatevi negli occhi per favore guardatevi le facce che avete seconda versione l'uno solo battito di mani il due è un saltello perché il dottore Pasquale ci ha detto dobbiamo iniziare a fare fitness saltello ma guardandosi negli occhi solo il tre resta verbale pronti? tre due uno via stop stop spero che sia filmato perché resterà agli atti ok questa è l'intelligenza ok ho visto cose che voi umani ho sentito tanti di quei tre saltando vabbè ultima test questo è quello della prova attenzione l'uno è un battito di mani il due è il saltello attenzione al tre scodinzolata e inaccosciata guardandosi negli occhi scodinzolata e inaccosciata guardandosi negli occhi senza parlare tre due uno via stop non l'ho mai fatto così bene non mi è mai venuto così bene su un corso questo è un team molto motivato stop stop ultima verifica adesso lo ripetiamo solo verbalmente senza nessun gesto più veloce possibile solo verbale nessun gesto pronti? tre due uno via uno stop stop cosa notate? siete andati più veloci? siete andati più veloci? sì avete fatto meno errori? sì ci avete messo tre minuti questo è un principio stupido di neuroscienze quando c'è produzione di dopamina si impara fino a dieci volte più velocemente e si ricorda fino a cinque volte di più e la si produce come la dopamina col contatto emotivo guardarsi negli occhi e ridere si impara molto di più divertendosi e si impara molto di più se sei in relazione con chi ti insegna quanto dovrebbero saperlo i professori a scuola? quanto possiamo applicarlo noi nell'insegnamento? quanto possiamo recuperare questo quella che questa immagine ci dice tornare bambini non è una questione tecnica è proprio fatta di comportamenti questo lo possiamo portare nella quotidianità vi è chiaro il messaggio? è solo un test ma è importante comprendere cosa significa questa presentazione queste diapositive prego se volete accomodarvi guardiamo la successiva la parola che avete detto prima è esperienza esperienza experience cos'è? è quella situazione che si crea quando l'emisfero destro si accende se l'emisfero destro si accende in qualunque situazione compresa una patologia o una terapia l'effetto placebo alza le probabilità che il sistema immunitario funzioni perché l'emisfero destro acceso influenza tutto il sistema organismico il collegamento tra soma e psiche e fa produrre degli ormoni delle endorfine e dei neurotrasmettitori che alzano la probabilità che l'organismo sia vitale e che quindi riesca nelle sue sfide per la Pellegrini se ne parlava stamattina è elaborare il quarto posto delle olimpiadi e tornare in vasca cazzuta dopo che se l'ha fatta sotto e dice volevo smettere e agli ultimi 15 metri riuscire a recuperare e diventare prima avete presente la Pellegrini? a qualcuno forse ha fatto venire i brividi io che sono un ex nuotatore dico a 27 anni guarda cosa è capace di tornare a fare e guarda cosa è in mente di fare per Tokyo io ho conosciuto personalmente Menea chi di voi si ricorda cosa ha fatto Menea? ci sono tanti miti ma ci sono persone tipo Zanardi ci sono tante persone che ci dicono cos'è un expire cioè quando si riesce a mettere il cuore collegato al cervello e noi lo possiamo fare nelle nostre vite personali per trasmetterlo nelle nostre passioni tipo quella della Pellegrini tipo quella della Subacquea tipo le nostre emozioni nelle quali sentiamo l'amore per la vita perché andare in acqua andare in mare sono sicuro che oggi l'avete fatto amando di più questa gioia queste sorprese ogni volta è una sorpresa andare in acqua andare sotto non sai mai che cosa succede ora le experience fanno la differenza per riuscire a interpretare quello che vi propongo con questa immagine un conto è proporre immersioni e le immersioni sono come la punta di un iceberg un prodotto tradizionale un conto è riuscire a proporre delle experience cosa vuol dire? wow non vedo l'ora di tornare fare in modo che nell'emisfero destro di ogni vostro partecipante ed in ogni vostro istruttore di vario livello cresca questo stato d'animo e chi sono i vertici di un'organizzazione aiutano questa filosofia ad attecchire e a diventare il cambiamento il cambiamento cos'è? emozionare di più appassionarsi di più condividere di più vivere di più la parte emotiva cioè tutta la parte della nostra personalità la parte che c'è nell'inconscio ovvero la personalità di ognuno di noi è divisa in conscio subconscio e inconscio cosa vuol dire? che la dimensione inconscia che è quella che c'è qua sotto è quella che ci ha fatto ridere e scherzare mentre facevamo adesso l'esercizio ma è quella che ha aggiunto il valore di dire mi ricordo questa energia non mi ricordo quello che mi ha spiegato il professore mi ricordo quello che ho sentito mentre me l'ha spiegato riuscire a lavorare in questa dimensione significa incuriosire incuriosire avere nella comunicazione corporea la capacità di entusiasmare e far divertire Quark spiega le cose con dei cartoni animati Quark ci dice in massimo tre minuti un concetto complicato deve essere capito prende degli esperimenti e prende dei divulgatori e che cosa fa? immagini mentali noi impariamo molto di più con le immagini che con le frasi le spiegazioni gli specialisti delle spiegazioni sono i professori i ricercatori il popolo noi abbiamo bisogno di avere che cosa? le semplificazioni fallo semplice spiegamelo con parole semplici fammi delle immagini che mi aiutano a comprendere e rendi il tutto divertente fai in modo che sia piacevole se c'è dopamina ovvero curiosità e sorpresa il primo neurotrasmettitore quello rosso accende e quindi tiene accesa la motivazione vai la parte successiva è che i desideri abitano sotto desideri attenzione le aspettative cerco un corso affidabile puntuale preciso ben organizzato di competenti che mi diano dei risultati sopra richiesta qualità prezzo i giorni della settimana giusta piuttosto che l'obiettivo col quale porto a casa il brevetto che mi serve mi informo sulle richieste vado su internet piuttosto che telefono piuttosto che vado a visitare un sito piuttosto che visito la sede dell'associazione parlo con la segretaria con gli istruttori con il presidente aspettative colgo l'ambiente l'atmosfera vedo l'organizzazione capisco quanta sicurezza e comfort c'è in questa organizzazione ma la cosa che non sono capaci di dire perché è nella mia pancia e neanche il mio cervello non la sa è io desidero che sia piacevole e desidero che sia una bella avventura e desidero fare amicizie e desidero fare parte di un gruppo e desidero sentirmi figo e desidero vincere riuscire in qualche cosa e desidero cambiare un po' l'idea che ho di me in questa monotona quotidianità che tutto funziona sempre nello stesso modo e che è ripetitivo è scialbo ho bisogno di far cosa che mi faccia sentire un po' di brividi mi seguite? vi cito dei marchi che sono bravi a farlo Apple lo fa con la tecnologia io sto lavorando con le auto ci sono delle marchi che cercano di avere questa capacità di trasmettere un po' di brivido e di experience a chi va non solo a comprare la macchina per rapporto qualità giusto per il consumo per la durata per la durata della garanzia ma anche per la relazione che c'è con l'affidabilità il calore umano la concessionaria come ne segue la fiducia che ho nel modo in cui mi risolvono problemi e il modo in cui mi sento protetto e rassicurato in una sorta di marchio che si prende cura di me cioè che mi vuole bene ora potremmo citare tanti altri settori e tanti altri modelli in cui si applica nel marketing la teoria dell'iceberg di sicuro i clienti non sono capaci di dire esplicitamente i loro desideri di sicuro i desideri come sono impliciti e inconsci il nostro scopo è ricordarci che quelli pulsano di più delle richieste mi chiedi delle cose devo fare attenzione a cosa desideri che non me lo chiedi la stessa cosa questo per esempio è anticipare questa è una piccola sorpresa una cosa stupida però è una piccola premura che fa contenta una persona o no? i desideri hanno a che fare con delle leve motivazionali che vanno ad un livello differente rispetto alle aspettative e alle richieste e sono rossi perché pulsano di identità i desideri in realtà soddisfano la fame di identità che ciascuno di noi ha noi abbiamo molta più fame di identità che di competenze o di tecnologia o di strumenti abbiamo fame di identità di rispondere alla domanda chi sono io è un bisogno inconscio se entro da un negozio di scarpe e trovo le scarpe che voglio io e sono esposte in vetrina e sono proprio quelle che mi immaginavo di abbinare a quell'abito che ho comprato entro dentro e c'è una commessa di quelle avete presente quelle stronze che entro dentro mi viene già voglia di mandarla a cagare e dico guarda questa che mi guarda come che sono entrato alle 12.27 aveva già il pacchetto di sigarette in mano il telefonino col moroso la seranda se mi è abbassata e mi guarda come per dire è questa l'ora di entrare e fa finta di sorridere con la bocca e con gli occhi mi sta mandando a fanculo e io dico te la faccio pagare io adesso le scarpe me le provo ma non le compro da te perché? perché il mio sacrificio dei miei soldi a cui do valore io le provo ma le vado a comprare da un altro perché tu non ti meriti il mio sacrificio non mi stai dando quello che io cerco che non sono le scarpe sto cercando identità nel modo in cui le compro l'ho fatta un po' semplice ci succede di non andare in certi posti per come ci hanno trattato non per quello che c'è dentro questo è il contenuto che c'è questa è la relazione si applica a tanti aspetti non solo ai negozi si applica anche ai professionisti si applica anche certe materie non vado più a studiarle perché mi sta sui maroni professori oppure quella scuola quella classe quella attività non ci vado perché quello che succede a questo livello invece di essere un experience è col segno meno non è col segno più allora questa piramide se dovresti farmela andare in velocità perché ci sono vari passaggi che dovevo gestire col telecomando alla base di un experience bisogna comunque essere tecnici avere degli ottimi standard io non discuto su questo anzi dico guai se la base non è solida se non siamo non competenti iper competenti compresa la sessione che è stata fatta dal punto di vista medico cioè dobbiamo essere scientifici e dobbiamo esserlo in modo disciplinato e culturale cioè non deve essere spot qualcuno è fondamentale in tutti i business essere non solo competenti strutturati e organizzati alla base della piramide al secondo livello qui che cos'è che abbiamo se mi fai andare ci sono gli standard dobbiamo essere capaci di comunicare quello che sappiamo con istruzioni efficaci avere delle buone capacità relazionali cioè saperlo fare in un modo piacevole e coinvolgere le persone se sappiamo unire le due cose competenze e modo di offrire in un modo qualificato questa è la linea di soddisfazione il cliente è soddisfatto il problema è che il cliente è soddisfatto oggi non basta più perché a soddisfare i clienti c'è un esubero di offerta rispetto alla domanda in qualunque settore io lavoro col turismo con le compagnie aere con le compagnie di auto con le polizze assicurative con le banche con l'abbigliamento con i medici con i dentisti ci sono più dentisti di quello che di denti da curare ci sono più avvocati di cause da seguire chi è che vince in un mercato della competizione vince chi è capace non di soddisfare ma di superare le aspettative superare le aspettative è la nuova frontiera non ci basta più avere clienti soddisfatti noi dobbiamo farli divertire ultras del nostro marchio devono andare nella curva con la sciarpa del nostro marchio e diventare i paladini della causa una metafora chiara è quella che fanno alcuni che il giorno in cui uscirà Apple la versione 8 il 10 bravi che cosa faranno si metteranno in coda fare che cosa essere i primi pagheranno qualcuno che stia in coda cioè vogliono essere tra virgolette testimoni è venuto il Papa a celebrare la messa alla mia parrocchia aspetta io che sono credente vado a seguire la messa è uscito il nuovo modello che cosa vuol dire quelli sono i paladini del brand perché supera le aspettative questo si applica in qualunque modello di business qualunque modello di business compreso il no profit io lo dico per definizione e faccio l'allenatore di questi principi nelle squadre e nelle organizzazioni che ci credono in alcuni impianti natatori facciamo questo con i bambini che fanno acquaticità neonatale e con le mamme che aiutano i bambini a sperimentare la magia dell'acqua compreso quando gli fanno il bagnetto però i papà vanno in acqua a fare il filmatino del loro marmocchio insieme alla mamma e fanno che cosa è una experience familiare intorno al concetto sembra che sia il bambino in realtà è un nucleo familiare che fa un'esperienza di mediatore di affettività attraverso l'acqua questa è una cosa che si può applicare a tantissime situazioni se andate a vedere certi disabili in acqua cosa gli succede scopriamo che cosa c'è di magico attraverso il mediatore acqua avete mai visto due bambini che in bicicletta in un viottolo incontrano una pozzanghera e non ci sono adulti? cosa fanno? acqua la magia dell'acqua ha una componente ancestrale per emozionarci e farci felici che va recuperata nelle varie dimensioni compreso il meccanismo in cui andiamo a immergerci spa salus per acqua avete presente le spa gli antichi romani andare nell'acqua termale vivere il rapporto con l'acqua quante cose ci può dare l'acqua non solo quando la beviamo ma anche quando la viviamo emozionare far scoprire esperienze di acqua in modo magico in modo piacevole in modo curioso in modo benigni scegliete voi la metafora che preferite il mercato è affamato di esperienze di questo tipo pochi le concettualizzano le ingegnerizzano le progettano si disciplinano a fornirle e le erogano pochi pochissimi sono capaci di avere questa filosofia questa filosofia fa diventare il marchio un brand la gente si innamora del marchio brand branding è la filosofia di cui vi sto parlando nel marketing oggi far diventare un marchio un brand è una strategia chi è che lo fa accadere? un gruppo di persone che dicono si può fare i leader mi succede di cambiare certi marchi e provo l'orgoglio di vedere guarda cosa è successo di questo marchio che prima ci sputavano sopra opinioni opinioni ma fino a dieci anni fa sul marchio Fiat ci sputava sopra un sacco di gente è vero o no? General Moto ci ha sputato sopra quando le ha fatto vedere i bilanci aveva già scavato la fossa avevano già predisposto l'estremozione decotto morto tira la volata alle auto americane com'è che si spiega? è un cambio di filosofia si chiama inversione di paradigma certo Fiat era posizionata sulla convenienza dare al mercato rapporto qualità prezzo vincente duna palio avete presente la duna? dovevano fare gli spot pubblicitari per convincerti guarda che se compri una duna non sei sfigato cioè se ti fermi al telefonino se ti fermi cioè se sei fermo al parcheggio e un ciclista si appoggia sulla tua duna perché pensa che sia una macchina di merda fagli pure la retromarcia guarda che dentro c'è uno intelligente non è che perché ho una macchina da culo sono da culo anch'io cioè usava l'ironia per spiegare è intelligente uno che compra una macchina conveniente che non ha tanto appeal ma questa è la filosofia di Fiat non so se vi è chiaro in versione di paradigma 500 nostalgia del passato facciamo con le auto quello che ha fatto Harley Davidson con le moto non vendiamo più auto vendiamo esperienza emotiva nostalgia del passato la mitica 500 ancora oggi gran parte di quelle che fa si chiamano 500 cosa cazzo c'entra questo nuovo piccolo SUV con la 500 che avevo io che guidavo quella di mia mamma non c'entra una mazza c'è solo il nome evoca capite cos'è la parte emotiva guardate che con l'ovetto kinder e con il 500 non è che c'è tanta differenza il concetto è sempre una X superare le aspettative il che significa che tutti i marchi tutti i prodotti tutte le innovazioni possono interpretare il bisogno che hanno le persone di essere felici cioè di avere qualche cosa che supera le loro richieste saper superare le richieste è una filosofia che si può fare e la si progetta per cui io francamente mi sento disponibile in qualunque forma anche Skype a darvi qualche dritta perché secondo me ve lo meritate per l'amicizia che abbiamo per quello che vedo che state facendo sul territorio e le difficoltà che hanno tutti perché oggi tutti fanno fatica a uscire dalla bagarre della competizione e della curva di domanda che è in discesa cioè la famiglia media ha una curva di domanda per i servizi accessori in discesa ma non perché non ci sono soldi sembra che sia così ditemi qual è il ragazzino all'elementare che non ha il telefonino sei un'eccezione che conferma la regola o no? quanto devi resistere? sto solo dicendo un aspetto sapete quanti soldi spendono i ragazzini per comunicare fra di loro invece che guardandosi negli occhi usando Whatsapp? ne avete mai visti degli adolescenti che si comunicano seduti sul divano via messaggio perché sono nel network nella chat con i loro amici? quindi sembra che non ci siano soldini in realtà che sono spesi per delle cose che in realtà ci siamo abituati ci siamo lasciati un po' sedure a prendere la mano a dare come principali quello che vorrei farvi vedere con questa piramide che conoscete già Maslow lo psicologo della motivazione ha decretato i bisogni del corpo sono quelli più urgenti sono quelli più capaci di pulsare e se li soddisfi danno subito dopamina mangiare bere e dormire per il neonato appena nato appena succhia latte dopamina si rilassa e si addormenta il sonno produce dopamina al secondo livello sicurezza cosa fa una mamma mentre allatta il suo cucciolo? notoriamente la mamma ha l'istinto di produrre ossitocina nel momento in cui dopo il taglio del cordone umbilicale abbraccia il suo cucciolo quindi con l'abbraccio gli trasmette non solo nutrimento dopamina ma gli trasmette anche sicurezza e lo protegge e gli dà di nuovo calore 36 gradi nell'idromassaggio della vita intrauterina di 9 mesi diventano i 37 gradi della relazione col contatto sicurezza il bambino però cosa percepisce anche? appartengo a una relazione come prima quando ero dentro appartengo a una relazione perché lo sento non perché lo penso attenzione perché lo sento non perché lo penso se io incontro una persona e questa mi dice piacere Edo Antonio piacere se io mi presento e dico piacere Edo e invece di darti la mano tengo la mano dietro tu mi guardi negli occhi e mi dici cazzo piacere è cioè c'è un'incongruenza tra il nome il presentarsi e l'esperienza del piacere cioè il piacere noi ce lo diciamo non solo verbalmente ce lo trasmettiamo anche fisicamente si chiama contatto emotivo il bisogno di appartenenza non si pensa ma si sente una delle forme con cui sentiamo di appartenere a una relazione è il contatto visivo un bambino impara a camminare attraverso il contatto visivo perché dopo che ha fatto i primi passi tenuto per mano il papà o la mamma o lo zio o l'adulto che cosa fanno vieni dal papà intanto fanno la faccia da scemi avete presente vieni dal papà vieni dal papà e poi nel momento che stacca la mano cosa fa il papà cosa fa la mamma perché in ginocchio perché gli occhi perché in ginocchio gli occhi sono la stessa altezza e infonde fiducia sta promettendo appartenenza e l'appartenenza la si comunica per noi primati e voluti attraverso il contatto visivo secondo voi quanto conta per un cabarettista appena entra in palcoscenico a Zellig avere col radar degli occhi tutto il pubblico che pende dalle sue labbra nei primi tre secondi quanto conta x factor il karma che trasmette una persona che si gioca in cento secondi la capacità di tornare alle selezioni successive quanto conta il contatto visivo è una delle forme di comunicazione corporea che conta molto perché perché noi l'appartenenza non è dicendo delle cose non è con le orecchie è con il contatto della pupilla che è un buco di fronte al quale c'è il nervo ottico con una specie di antena parabolica che arriva alla parte profonda amigdala sistema limbico del cervello che dice on accende il contatto visivo accende l'emisfero destro tant'è che una persona che motiva è importante che abbia gli occhi carichi e che abbia la capacità di ipnotizzare catturare attenzione quanto serve a un bravo istruttore avere il contatto visivo positivo tantissimo incuriosire la classe catturare uno sguardo distratto e portarlo da sé le persone hanno bisogno di essere motivate attraverso il contatto visivo servono dei bravi comunicatori con gli occhi bisogna allenarsi è come scuola di teatro niente di più niente di meno è una scelta il tono della voce conta la postura conta la gestualità dare il 5 a una persona dare il 5 cosa significa dare il 5 è una forma di appartenenza e di riconoscimento se un bambino non viene toccato e non viene guardato mentre viene allattato si manifesta una sindrome che si chiama inedia perdita di appetito il nervo vago che è uno dei nervi che manda impulsi più profondi rispetto alla sopravvivenza si inibisce e non manda più lo stesso segnale forte perché nell'inconscio il bambino dice senza carezze il latte non mi interessa tanto io lo voglio potenziato senza sguardi sorridenti senza la mamma che si prende cura di me io non lo voglio il latte tant'è che i bambini nervosi che non succhiano la mamma dice che cos'ha che cos'ha si incazza ancora di più il bambino entra in risonanza che cosa sta cercando di succhiare insieme serotonina che è la neurotrasmettitore numero due la dopamina è il primo la serotonina è appartenenza e riconoscimento ci siete? certi ragazzini non vanno a scuola non partecipano a una classe perché in quella classe c'è bullismo o perché c'è invece che un professore che ti accoglie c'è un professore che ti minaccia e quindi che cosa succede? appartenenza riconoscimento Maslow ci dice anche che a livello più alto il bisogno totale finale è quello di avere una buona relazione con se stessi la buona relazione con chi? la persona che abita dentro di me quindi io frequento gli ambienti dove mi sento gratificato a livello di autostima frequento una relazione nella quale sento nutrita la mia identità frequento un ambiente o degli amici nei quali sento che continua la sensazione qui sto bene con voi perché io sto bene con me l'autostima secondo la teoria di Maslow che è molto accreditata in varie correnti psicologiche è il bene più importante ma come vedete viene per ultimo a livello di urgenza sono più importanti quelli fisiologici a livello di urgenza dovete dare delle istruzioni perché non venga l'embolia al vostro allievo solo che a livello di importanza la cosa che lui sta chiedendo senza saperlo e senza dirvelo è fammi sentire figo fammi sentire importante fammi sentire che sono amato preso in consegna non solo da te dal gruppo fammi sentire parte di un gruppo esempio un bravo istruttore deve per forza alimentare il senso di appartenenza del gruppo deve lavorare sulle dinamiche di gruppo non basta avere persone che hanno una buona relazione con lui deve essere bravo a fare in modo che abbiano una relazione fra di loro e questo si insegna sono nuove tecniche di capacità relazionale che influiscono sulla didattica una maestra un maestro un professore che non sa fare bene squadra tra i suoi allievi e non risolve le conflittualità fisiologiche che ci sono facendole diventare dinamiche ha un potenziale più basso rispetto a un altro che invece riesce a gestire questi aspetti quindi io vi sto portando delle innovazioni che potete portare nel vostro progetto ricordandovi tutti noi siamo molto sensibili al senso di autostima più di quello che sembra l'ovetto kinder oggi sta proponendo collezionali tutti avete presente? ma a 5 anni un bambino tira fuori da una scatoletta gialla 3 pezzettini di plastica con delle istruzioni non trova la sorpresa trova 3 pezzettini da montare perché alla fine cosa dirà se stesso? l'ho fatto io non so se vi è chiaro l'ho fatto io Harley Davidson non ti dà la motocicletta ti dà la base per farla diventare come vuoi tu poi ti organizza 100.000 spettatori moto raduno di gente simile a te vestita come te che crede nel marchio come te che crede in quella tribù e tu vai a celebrare la tua identità e porti la tua Harley diversa dalle altre 99.000 non so se vi è chiaro e la gente spende un sacco di soldi per avere la sua Harley e le dà il bacino della buonanotte e la porta a spasso alla domenica sperando di trovare tanti semafori rossi perché semaforo rosso uguale scusa se è poco e dove la parcheggia? il bar più bello degli aperitivi dove la gente si ferma e guarda e gongola da che cosa? è la mia identità sembra che stia dicendo minchiate ma ci sono delle persone che hanno bisogno di fare che cosa? di coltivare un hobby comune che nutre il loro senso di identità siamo tutti in questa dimensione io per primo e vi dicevo che X factor è la capacità di collegare l'emisfero sinistro col destro per un motivo potente l'emisfero destro quando è acceso vedete cosa fa? si espande la passione cosa fa? quando è percepita si espande il divertimento prima vi siete guardati come ridevate? io a un certo punto vi ho chiesto guardatemi negli occhi fase 1 ridacchiavate fase 2 ridevate fase 3 eravate come dei bambini ridevate e più vi sentivate stupidi e più vi sentivate attivati emotivamente perché? perché quando le emozioni sono in circolo sono contagiose adesso vi faccio una banale domanda quanto è importante dopo un'immersione che le persone tornino a casa dicendo troppo figo e che i filmati su whatsapp piuttosto che le testimonianze che si dicono fra di loro piuttosto che il ricordo dell'esperienza sia una cosa celebrata che li fanno sentire non vedo l'ora di ripetere anzi la prossima volta la facciamo ancora più in grande è così o no? è come una festa dove tu sei andato alla festa e dici la prossima volta la facciamo ancora più figo è come il concerto dove sei andato a sentire la tua band musicale e dici la prossima volta vado anche a quell'altro ci porto anche altri amici si sta troppo bene questo è quello che la gente sta cercando perché? perché la fame di relazione è diventata sempre più potente rispetto a com'era qualche decennio fa in cui la relazione c'erano dei posti istituzionali dove sapevi di trovarla una era la famiglia oggi dov'è la famiglia? è un bel punto di domanda su cui l'antropologia la sociologia e la psicologia si stanno domandando dove andremo a finire famiglia due sistemi sociali che siano politici che siano sociali che siano valoriali che sia la chiesa Papa Francesco si sta sbattendo moltissimo per recuperare il senso di appartenenza e sta scoprendo che la prima cosa da fare è guardare la gente negli occhi aprire le braccia contattarli e accoglierli non giudicare non puntare il dito non pontificare Ratzinger era più bravo in questo lui che cos'è che fa? apertura e quindi cerca di incuriosire cioè sta applicando il principio fattore X possono piacervi più o meno questi esempi che vi do servono a riflettere cosa posso fare io in questa associazione in questo gruppo che interpreti in modo sincero qualcosa che contagi meglio le persone che hanno bisogno i vostri istruttori per diventare possibilmente di livello più competente e magari dei vostri allievi che desiderino diventare istruttori ne abbiamo parlato oggi si direbbe che potrebbe essere una grande strategia per la crescita del vostro marchio riposizionarsi sul mercato avendo più allievi che diventano più istruttori che dicano questa scommessa in questa tribù dove si fa amicizia dove si entra in un gruppo di gente appassionata dove condividi e vivi intensamente queste emozioni ho voglia di arricchire la mia vita con questo sapore però va percepita non va spiegata va percepita va fatta sentire le emozioni di base quindi che guidano queste scelte sono due io l'ho spiegato anche nelle altre puntate in cui vi ho visto la G di gioia e la S di sorpresa sono le due emozioni con cui si fa la differenza per riuscire ad avere le persone molto motivate un bambino è motivato quando fa esperienza di gioia e sorpresa un adulto è motivato quando torna bambino segreto i notai farli tornare bambini i medici farli tornare bambini i banchieri farli tornare bambini l'idraulico farli tornare bambini tutti quanti a fare il gioco che con la nostra motocicletta ci divertiremo e facciamo la banda la banda dei ribelli chi sono? gli arlisti sto citando Arli potrei citarvi gli appassionati della Vespa piuttosto che gli appassionati del Sub gioia e sorpresa insieme personalizzate in cui sentirsi persona sentirsi non cliente non utente sentirsi persona limitando quelle che sono le quattro emozioni negative ridurre la paura tutto quello che voi farete per ridurre la paura dell'acqua mi permetto di citare una serie di messaggini che sarebbe bello magari poi condividere con più calma che mi hai fatto leggere stamattina dal tuo telefonino racconto di una vostra allieva come ha superato la paura che le procurava nausea andando in acqua lei diceva che era fisiologico leggendo poi abbiamo scoperto che il disgusto era proprio psicologico ok? la relazione con te ha aiutato a superare questa esperienza ci sono persone per esempio io con lo snowboard soffrivo 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 mi sentivo incapace ho trovato uno che mi ha fatto divertire mi ha dato gioia mi sono innamorato non di Johnny Johnny il trainer ma soprattutto della sua modo di andare sulla neve e quindi ho detto anch'io come lui mi sono identificato gioia e sorpresa vi sembra chiaro questo? le emozioni che motivano sono quelle rosse due quelle che demotivano bisogna ridurle in anticipo la paura la rabbia il disgusto e la sofferenza ci avremo l'occasione di riflettere in qualche altra opportunità io costruisco degli schemi di comportamento in cui si gestisce in anticipo il rischio di produrre paura e sofferenza vi do un esempio catene di pizzerie lo cito spesso in una catena di pizzerie quando uno va a mangiare una pizza si aspetta di mangiare una cosa gustosa saporita di solito conviviale non ci vai da solo si va a fare la pizzata con gli amici perché si fa con altri è un momento di socializzazione siete d'accordo? in cui spesso si porta a casa buon umore non solo la pizza certo che se la digerisci meglio è meglio cosa succede quando entri in pizzeria vedi gli altri che mangiano la pizza e dici quanto bisogna aspettare e non sai se l'attesa sarà lunga se quello che ti dice un quarto d'ora sarà la verità e magari devi starci dentro un'ora e vedi tutti gli altri che mangiano vi è mai successo di avere fame di vedere gli altri che mangiano e di sentire il profumo di pizza di dire cazzo prima avevo fame adesso ce l'ho moltiplicata per 10 vi è mai successo di provare un po' di rabbia perché non vi salutano non vi danno accoglienza di qualità all'inizio o peggio ancora di sedervi al tavolo e vedere servito prima il tavolo che è arrivato dopo di voi vi è mai successo questo? io lì divento un serial killer tu vai via perché dico questa cosa? perché uno degli aspetti importantissimi per chi gestisce con successo un marchio avere la pizza buona ad alta digeribilità 48 ore di levitazione prodotti no glutine piuttosto che mozzarella oh tu entri dentro come entri? la prima cosa è un caldo benvenuto iniziale i famosi primi 30 secondi i primi 3 secondi con un bel sorriso ben arrivati quante siete? 5, 8, 10? ah oh siete 5, 8, 10? ragazzi ci sarà da aspettare vi devo avvisare ma abbiamo il nostro corner di benvenuto self service vi potete servire approfittate anzi fra un pochino vengo a portarvi qualcosa da bere cosa vuol dire? che c'è un angolo dove le persone in piedi possono andare chi si taglia salame chi si taglia mortadella chi trova già pezzettine trancetti di pizza cosa vuol dire? fare di un problema una l'angolo per i bambini che di solito sono quelli che rompono le palle di più ci sono già delle cosine per i bambini per giocare per mangiucchiare qualcosina cioè rendere l'attesa invece che frustrante positiva si può fare so che bisogna vedere lungo i clienti non lo chiedono questo però lo desiderano ridurre le emozioni negative iperpulire i bagni non pulirli iperpulirli cioè più c'è gente più vedi che questi puliscono i bagni mentre tu sei al servizio non vedo mai in pizzeria quello che si fa negli alberghi nei villaggi turistici cioè in quel momento c'è la persona da McDonald's non so se vedete c'è sempre qualcuno che pulisce perché non c'è in pizzeria? perché non vedono lungo sui bisogni e motivi quando c'è tanta gente in quelle tre ore si serve il parcheggiatore fuori per le auto e serve uno che pulisca i bagni dentro perché la gente ha bisogno di superare le aspettative e di che cosa si ricorda? della pizza buona e soprattutto della relazione con cui viene servita con questo esempio ci sono spunti per tutti noi sono sicuro anche per voi mi permette se non vi conosco sul campo operativo il nostro obiettivo quindi quale diventa? il nostro obiettivo è fornire un'esperienza speciale che appassioni un'esperienza tutte le volte tutte le volte avere questo focus se avete un marchio far sì che la gente dica con questo marchio supera le mie aspettative quando? tutte le volte proprietà transitiva questo è possibile se lo si programma se lo si definisce se insieme desiderate che questo succeda potete farcela possiamo farcela io volentieri per quello che posso vi do una mano oltre a partire dal perché che è il libro che vi dicevo prima dopo vi farò vedere un altro manualino che spiega bene questo aspetto e ve lo consiglio con grande calore tifo focalizzarsi sulle cose che fanno la differenza poche cose ma fatte benissimo le 4 di X dell'execution lo metto qua per essere sicuro che poi qualcuno gli faccia la foto in sintesi questa donna che occhi ha secondo voi contenti come faccio a saperlo? lo vedo dall'espressione del volto delle labbra della mimica ma se vogliamo guardare cos'è la motivazione è semplicemente per quanto complesso la capacità di far immaginare ho usato la parola immaginare il futuro positivo immaginare il futuro positivo è un'arte si può allenarla o no si può ricordarsi di farlo o no si può sollecitarlo alle persone o no quando un paziente immagina il futuro più positivo possibile le probabilità che quel futuro lo metta nella condizione di avvicinarsi salgono la fisiologia le scienze lo dimostrano compresa la medicina quando un atleta visualizza una prestazione e un gesto migliore la sua capacità di visualizzarlo la Federica Pellegrini lo sa fare molto bene ma anche Nadal lo sa fare molto bene anche Federer lo sa fare molto bene maestro di questa abilità è Djokovic che cos'è che sanno fare? io sono molto amico di Umberto Pelizzari l'ho già citato ha scritto la prefazione al mio libro sulla leadership ho fatto mille volte il record del mondo immaginandolo una volta 163 metri mi sembra che fosse in in apnea l'ho fatto una volta cioè immagina è la capacità umana da recuperare come quella più potente di tutte quindi quando io faccio immaginare alle persone quando faccio immaginare un bambino quando faccio immaginare un allievo quando immagino io sviluppo una delle componenti più potenti per produrre dopamina perché l'immaginazione anche se immagino una cosa positiva che non si è realizzata il mio cervello agisce come se la produzione di quel neurotrasmettitore avviene comunque quindi l'inconscio non distingue tra una cosa immaginata è una cosa reale vissuta perché per l'inconscio è comunque vera il numero di volte che immagino è direttamente proporzionale alla produzione della motivazione che è proprio la glicemia di questo neurotrasmettitore regolare quindi riuscire a far sì che questo succeda richiede un po' di disciplina da parte di chi motiva far immaginare far immaginare vi chiedo di fare un test con me per tornare bambini per gli ultimi 5 minuti ce la fate? 5 minuti? tornare bambini? questo è un test che spero farete tornando a casa è un test col quale fate non a coppia ma individualmente una cosina simile a prima però dovete di nuovo alzarvi in piedi e mettervi nella stanza in una posizione in cui intorno non c'è nulla non dovete toccare né persone né oggetti né muri cioè intorno a voi non ci deve essere nulla e vi chiedo in questa posizione di darmi fiducia e seguire due indicazioni la prima piantare bene i piedi perché da lì dove gli appoggiati restano fissi con un bel saltello là piedi ben piantati là ok secondo un bel respiro e sciogliere le spalle sciogliere il collo un bel respiro adesso vi chiedo di stendere davanti a voi il braccio destro con il dito indice puntato allineiamo il mento e il naso con il dito indice osserviamo il dito indice e lentamente iniziamo a ruotare a destra il dito indice a ruotare seguendolo col mento mento, naso seguono ruotiamo ruotiamo tutto il corpo le spalle ruotano la testa ruota tutto il corpo allineato fino a quando è arrivato al limite verificate di arrivare al limite e che quello sia veramente il limite guardate dove punta il dito osservate dove punta il mio dito memorizzate quel punto vi invito a tornare indietro lentamente ok e a rilassare il braccio prima parte del test eseguita tutti siete riusciti a memorizzare? adesso vi chiedo di ripetere la stessa esperienza a occhi chiusi senza muovervi dovete solo immaginarlo quindi non muovete il dito non muovete nulla state proprio fermi immobili seguite le mie indicazioni occhi chiusi ok vi invito quindi a chiudere gli occhi e a non stendere il braccio il braccio resta giù dovete solo immaginare quindi per cortesia tutti occhi chiusi un bel respiro adesso vi invito a immaginare senza muovervi di stendere il braccio destro lo dovete solo immaginare sta giù il braccio non si muove lascialo pure giù immaginate che inizia a ruotare lentamente a destra e immaginate seguendo con lo sguardo il dito destro di arrivare lentamente al punto che avevate memorizzato a questo punto immaginate di andare oltre superatelo superatelo abbondantemente andate oltre quel punto e stabilite il nuovo limite e a questo punto potete tornare indietro lentamente come avete fatto prima al punto di partenza quando siete tornati potete di nuovo stendere il braccio e riaprire gli occhi vi invito a riaprire gli occhi ok? riproviamo a fare lo stesso gesto siete riusciti a immaginare? tutti? ok un bel respiro espirando ripetiamo il movimento e iniziamo a ruotare 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 continuare a ruotare e osservate dove arrivate a questo punto tornate indietro lentamente la domanda è siete andati oltre? tutti? qualcuno anche di più di quello che pensava? quanto tempo ci avete messo? ok? è una cosa stupida be stupid è una cosa stupida che ci aiuta a capire quanto conta immaginare un miglioramento? quanto conta far immaginare un miglioramento? quanto conta continuare a immaginare piccoli continui miglioramenti a dispetto a dispetto delle difficoltà e delle circostanze chi ha bisogno di avere un palladino che glielo ricordi si ispiri volentieri a una persona che lo sa fare io penso a Zanardi per esempio ognuno di noi può rispettare questo principio come, quando e come vuole la questione è un principio così come in fisica se io mollo questo libro tutti sapete cosa succede la forza e gravità noi attiriamo le cose che immaginiamo se non immaginiamo non attiriamo per motivare una persona è fondamentale insegnarle l'arte di immaginare immagina puoi avete presente a George Cluny gli danno un casino di soldi per dirlo a me un po' di meno eppure è sempre lo stesso principio vi invito a ritornare quindi al vostro posto e questa seconda legge che avete visto insegnare divertendo motiva molto di più fare immaginare motiva molto di più significa allenare l'intelligenza emotiva il collegamento tra emisfero sinistro e destro quando io faccio immaginare sviluppo intelligenza emotiva se lo fa un team questo lavoro ed è una tecnica con cui lavora la vostra associazione la vostra squadra beh questo team ha una forza in più in spogliatoio è notorio che gli atleti che sanno immaginare come uscire da una situazione difficile un allenatore tra il primo e il secondo tempo che fa immaginare come cambiare schemi quell'allenatore vale di più siete d'accordo? l'allenatore che fa immaginare non solo che ordina e dirige ma aiuta a credere fa immaginare io ho lavorato con Ettore Messina grande allenatore di basket come sa far immaginare lui non ho contratto nessuno far immaginare la presa in acqua solida e l'acqua che è liquida farla diventare solida Alberto Castagnetti come insegnava la bracciata stile maschile a un atleta che era donna e le faceva diventare solida l'acqua faceva un gesto atletico che se la vedete nuotare per chi ha fatto nuoto capisce lì dietro c'è un artista dell'immaginazione della percezione della visualizzazione della propria oggettività cos'è che sapeva fare lui? ti sapeva trasmettere un sogno te lo faceva immaginare te lo faceva sentire e poi replicare chi sa fare questo vale tanto di più di solito chi lo sa fare lo applica anche su di sé avete visto il film Invictus Nelson Mandela storia vera Clint Eastwood regista Mandela quando l'ha visto si è commosso ha contribuito all'interpretazione di Morgan Friedman interprete della sua storia 27 anni in carcere mondiali di rugby 1995 Sudafrica far immaginare al capitano degli springbox interpretato da Matt Damon cosa vuol dire una squadra che lotta e crede di potercela fare non che fa del suo meglio crede che può vincere non che ognuno fa del suo meglio crede noi ce la possiamo fare Sudafrica ce la possiamo fare battere chi? neozelandesi e chi cazzo mai ci è riuscito? neozelandesi all blacks coincidenza? oh sarà una coincidenza immagino poi Sudafrica ha vinto nel 95 coincidenza lui è uscito dal carcere è riuscito a unire bianchi e neri ma quanto l'ha immaginato? quindi ci sono testimonianze di eroi di questi principi e poi ci siamo noi comuni mortali che possiamo dire e io cosa posso fare? cos'è nel mio potenziale? nel qui e ora? nella mia vita di relazione? in un hobby che faccio per volontariato? forse se applico questo in un hobby lo posso applicare in altre cose della mia vita e quante opportunità ci sono per essere più allineato con principi universali in cui siamo più motivati noi per prime? perché? da quello che ho scoperto ecco perché faccio il mio mestiere se vuoi veramente motivare gli altri la prima persona che devi motivare sei te stesso e non perché gli altri te lo chiedono è l'unico modo in cui funziona sul serio altrimenti si chiama manipolazione gli assomiglia ma non è la stessa roba le esperienze magiche in cui quindi si è sorpresi e si immagina e ci si avvicina a quello che si immagina sono quelle in cui diamo valore lo possiamo fare anche in un servizio anche in un tra virgolette processo di scambio di soldi in cambio di prestazione mi fa piacere che vi siate ricordati della mia paperetta il famoso Lugano Dante Hotel quello che vi ho raccontato la volta scorsa che è l'albergo che ha guadagnato più giudizi positivi al mondo in TripAdvisor usando una tecnica che è quella che abbiamo costruito di far felici gli ospiti per una minchiatina che era una paperetta che galleggia in un lavandino rievocando il lago di Lugano a Lugano perché non sono riusciti a fare la ristrutturazione dei bagni per un problema legale che c'è stato col proprietario di casa e quindi insomma i clienti erano insoddisfatti dei bagni ma gli abbiamo fatto la storiella immagina poi siamo di fronte al lago di Lugano e c'è pure la paperetta che ti fa tornare bambino quella storiella che sembra una storia stupida in realtà ha costruito una case history famosa che è diventata famosa nel settore ospitalità e non solo quindi esperienze emotive ad alto impatto che generano fiducia la fiducia delle persone verso di voi verso come ci mettono il cuore collegato al cervello quando vado da loro è una fiducia che crea relazione e che quindi crea una regola fondamentale sulla quale noi possiamo restare organizzati e disciplinati questa fiducia è basata su come ognuno diventa veramente una persona non un consumatore i clienti adorano essere persone cosa ha fatto qua Nutella i nomi avete presente i nomi cosa vuol dire personalizzazione far sentire unici e speciali riconosciute le persone le persone i vostri allievi adorano i vostri istruttori adorano sentirsi persone di che cosa hanno bisogno di qualcuno che li faccia sentire speciali e il primo modo è personalizzare la relazione con gli altri lo fa anche Coca Cola la stessa cosa che è il marchio ancora numero uno al mondo ha inventato la lattina personalizzata giusto per ricordare su che cosa fa leva nella sua pubblicità così come bacio perugina cosa fa messaggino personalizzato non è mai sempre lo stesso messaggino che 95% dei clienti mangiano e intanto leggono il messaggino tradotto in 5 lingue ho notato una signora in un bar che ha preso uno di quelli che era alla cassa l'ha aperto leggeva il messaggino gli ha dato il cioccolatino e lei gli ha detto cosa c'è non vai difettoso no 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 io leggo solo l'oroscopo lei ha detto oroscopo non ha detto messaggino li raccoglie tutti se li mette nel portafoglio e lei si tiene no il cioccolatino si tiene il bigliettino tant'è che se guardate perugina fa il bacio perugina e il bacetto cosa ha di differenza dal bacetto è più piccolo e non ha il messaggino quindi vale di meno volete una piccola sorpresa in Mazda abbiamo fatto la consegna dell'auto con i messaggini e le firme di tutti i componenti del team l'accettatore il capofficino i meccanici piuttosto che la ragazza che ha venduto l'auto piuttosto che l'amministrazione tutti dicono benvenuto in Mazda e gli mettono dentro quattro cioccolatini in una cosa caramella confezionata dove dentro c'è il messaggino oh vanno in un brodo di giugiole e quando Mazda telefona per fare la verifica NPS net promoting score che punteggio prendiamo noi in relazione questa concessionaria che è quella di Padova ha vinto il premio come la numero uno in termini di relazione perché gli mette il messaggino che costa circa un euro e cinquanta all'interno della consegna dell'auto gli altri invece ci mettono il portachiavi in pelle solo che non hanno l'accortezza di chiamare le persone per nome e di mettergli dentro dopamina e serotonina capite la differenza? è come l'ho detto kinder è come esattamente anche il discorso che vi ho fatto prima in McDonald's Happy Meal la consegna felice la consegna dell'auto e l'accettazione dell'auto quando vai a fare il tagliando in un modo dove la cortesia supera le tue aspettative siamo noi che ci premuriamo di fornirtela in anticipo l'auto sostitutiva non me la devi chiedere te ti arriva già la mail dove ti dico quale sarà ti faccio la foto e ti dico speriamo che tu sia puntuale se per caso non riesci siamo già organizzati sia col taxi piuttosto che con la consegna la quota è di solo 15 euro abbiamo già la convenzione taxi il cliente sa che tu ti premuri per lui o per lei per il cliente queste sono piccole magie che fanno la differenza adesso io non vi dico che bisogna fare così ma quanto conta nella relazione avere esperienze dove senti che veramente si prendono cura di te la Giovanna che mi ha spiegato la tecnica del bigliettino perugina che le avevo insegnato ha detto abbiamo deciso che ognuno deve farlo con una penna di colore diverso perché devono veramente capire che ognuno ha fatto la sua firma in originale e i clienti sono attenti a che cosa? a questi dettagli ci credete? avete mai sentito il jingle della 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 kinder kinder più latte meno eh lo sapete soprattutto le mamme kinder più latte meno cacao se lo guardi in sezione il bianco è più spesso del marrone mantenere le promesse la firma fatta veramente in originale non una firma fotografata fotocopiata firma affermato per me è come quando regaliamo un pacchetto di Natale ci mettiamo un bigliettino scritto con sentimento il valore sta nelle piccole cose a volte le piccole cose danno più significato del regalo in sé questa è la parte emotiva Harley fa la stessa cosa ve l'ho già detto prima andiamo pure questo filmatino che vediamo adesso riassume un po' il sapore della nostra giornata e poi mi preparo a salutarvi con un ultimo messaggio vi chiedo di guardarlo con curiosità coca cola avete presente coca cola? hanno messo una macchina una macchina speciale in un campo universitario e che cosa sta facendo? condividere piccole esperienze di gioia con i nostri studenti all'interno del college e che cosa sta facendo? e che cosa sta facendo? e che cosa sta facendo? grazie a tutti 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 Arriveremo la prossima volta, questo è il messaggio provocatorio che fa con questo spot, chiaramente è ironia ma che cosa è che ci ricorda? Quanto è importante curare non il prodotto in sé ma l'occasione che il prodotto produce, Coca Cola non ha mai fatto uno spot pubblicitario in cui dice dissetto meglio di Pepsi o dissetto meglio degli altri, non parla mai del bisogno primario numero uno, parla sempre del senso di autostima in cima alla piramide, un mondo felice nel quale volersi più bene. Com'è che fa? Fra poco sarà Natale, è lo spot più richiesto e cercato a Natale perché ti fa vedere cosa succede bevendo insieme Coca Cola, ti fa sentire che Coca Cola è un momento di gioia, di condivisione per essere felici. È un momento di dopamina ma abbinato a serotonina che produce affettività e parla sempre di volersi bene. Coca Cola ha inventato Babbo Natale, l'ha fatto diventare bianco e rosso perché la televisione a colori degli anni 50 l'ha consentito. Prima era bianco e verde. Sto dicendo quindi quanto conta che un marchio ripeta, 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 che la sua perché non è il contenuto in sé, bere, è quello che succede nel come bevi e nel come ti vivi l'esperienza di dissetarti. Apple non parla mai della tecnologia che ha, parla sempre del modo in cui condividi la tecnologia e ti aiuta a metterti in relazione più divertente, più piacevole e più affettiva rispetto a quello che fanno gli altri. Uno dei modi è l'estetica. Quanto conta l'estetica? Ve lo chiedo, quanto conta l'estetica? Nella vita quanto conta l'estetica? Etica dell'immagine e estetica. Perché le chiese le facevano così belle nel Rinascimento? Perché ci mettevano la musica dentro alle chiese così belle? Perché ci mettevano gli affreschi? Perché gli architetti? Perché celebrare? Wow! Perché l'estetica ti fa sentire immagina? Puoi, se andate alla Sagrada Famiglia Barcellona e vedete, incompiuta. Cosa cazzo aveva in mente Gaudì? Vi è mai successo di pensare? Wow! Perché l'estetica è una sorpresa che ti apre l'anima, cioè ti fa produrre dopamina e sei grato a qualcuno che l'ha immaginata e sognata perché ti fa sentire quella cosa che ti dà ottimismo, fiducia. Crea dei neurotrasmettitori con i quali tu sei motivato. L'estetica di un computer conta un casino. Lui li ha fatti sottili, performanti di design, li ha fatti diventare oggetti di culto. Mio, già prima di sapere come cazzo funziona, intanto mi piace, intanto è bello, intanto lo voglio. Poi scopriremo come. Secondo, se va. Secondo, facile, facile da usare, intuitivo, icone, icone, immagini, immagini. Comunica per immagini. Se andate da Ikea a comprare un mobile, vi sfido a leggere le istruzioni. Cos'è che fate? Guardate delle immagini, cercate di capire. Cosa cazzo voleva dire questo che fa così? Ah, la vita è fatta così? Cioè tutto funziona con l'emisfero destro, c'è l'approccio intuitivo. Vi sto solo dicendo che queste cose vanno prese e riportate in ambiti differenti dai mobili, in ambiti differenti dal dissetarsi, in ambiti differenti dalle auto. Uno degli ambiti è la didattica. Dal mio punto di vista è così. Quindi al centro abbiamo il primo neurotrasmettitore. Qual era? Se vai e fai partire, ve lo ricordate? Dopo? Al secondo abbiamo la se? È il neurotrasmettitore del contatto, del calore umano, della relazione. Ok? Attenzione, perché? Mi è bruciata. È partita? Va bene, è andata così. Cosa c'era scritto? Cosa fa una mamma appena partorisce? Produce lo sguardo languido che ucciderebbe chiunque per il suo cucciolo e lo protegge e se lo guangia con gli occhi. Ossitocina che cos'è? Ronaldo che fa il colpo di testa e fa gol. Avete presente Ronaldo? Non so se le signore sanno chi è. Comunque uno che quando fa i colpi di testa fa gol, i maschi esultano, anche quelli delle squadre versate e dicono cazzo, prende sempre sto pallone d'oro. Ma lui quando fa un bel gol, la prima cosa che fa è come tutti i bambini degli oratori e come tutti, tra virgolette, i giocatori medi, non solo i fuoriclasse, inizia a correre. Dove cazzo va? Cioè quando fa gol, inizia a correre. Eh cazzo, sta fermo e goditelo sto. E invece c'ha sta dopamina in circolo che non sa dove cazzo mettere e cosa fa? Come la bambina con la pioggia. Bisogna scaricare, 10 secondi di scarica perché è incontenibile la gioia. Picco intensissimo, ok? Quello è il momento della dopamina. I risultati danno dopamina, le vittorie danno dopamina, riuscire dà dopamina. Wow, fare strike a bullying ti dà dopamina. Avete visto la faccia che fate quando fate strike? Cazzo, c'ho la mano da bullying, ti viene voglia. Avete mai fatto strike con la macchinetta? Mi è successo di dire, ho vinto troppi gettoni, adesso via a casa, basta, non ne voglio più. È come la nutella, tu dici, dai, solo un altro. Perché la dopamina è come il primo cucchiaino, si gioca ancora. Ed è così che i casinocci fottono, perché la dopamina crea dipendenza. E a sue fazioni, dosi sempre maggiori. Chiusa la parentesi. La serotonina è quello che succede dopo dieci secondi di corsa. Ronaldo corre, corre, e dopo che cosa succede dopo dieci secondi? Oh, questi giocatori che insieme prendono milioni di euro che nessuno di noi riesce a immaginarsi come si fa, si saltano addosso e si abbracciano e fanno gli animali. Cioè, sembrano dire, cosa è che fanno? Contatto fisico. Cosa fanno? Condividono la gioia. Ma non, che bravo che sei stato, complimenti, ottimo tiro. Cazzo, ma come hai fatto a fare quella punizione? Spiegami meglio. Si saltano addosso e fanno i bambini ingenui. Ovvero, la serotonina è il momento della condivisione. Certo che quando un atleta ha vinto una gara alle Olimpiadi, ha fatto un'ottima prestazione, o Ronaldo corre sotto la curva dei tifosi, si toglie la maglietta, che cosa ha fatto? Togliendosi la maglietta, va a prendersi un virtuale abbraccio. Quello è il momento della ossitocina, è il momento della celebrazione. Celebrare significa vivere gratitudine e sentire gratitudine. Ovvero, chi ti esalta, ti fa sentire grazie per quello che hai fatto, perché mi ispira. E chi sente di aver fatto qualcosa di grande, va a dire grazie a chi l'ha aiutato a ottenerlo, al suo allenatore, ai suoi genitori, alle persone che li vogliono bene. È il momento in cui si va a cementare il significato di tutta sta roba, che è un gioco. Quanto è importante per un bambino essere abbracciato dal papà dopo i primi cinque passi che ha fatto, essere riuscito? Ossitocina. E se c'è ossitocina in circolo, la motivazione sale, 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 perché c'è la promessa della cosa di cui tutti noi, primati e voluti, abbiamo più bisogno, che è relazione. La relazione vale più di qualunque contenuto. La relazione è il terreno dove scatta quindi il meccanismo della motivazione e la celebrazione, attenzione, la gratitudine, attenzione, la condivisione e il riconoscimento, sono i momenti in cui l'ossitocina viene percepita. Quindi, se un atleta vince alle Olimpiadi e sull'inno di Mameli, in cima al podio con la standing ovation del pubblico, sente questa ossitocina in circolo, quello è il momento che si ricorderà per tutta la vita, o no? Io penso a Paltrinieri, io facevo i 1500 stile, quando lui è arrivato e ha visto, cazzo, non è ancora record del mondo, però ha vinto le Olimpiadi, dopamina, nastro, è uscito, condivisione con tutti, però l'inno di Mameli, podio, è il momento che non torna più, cioè te lo ricordi per tutta la vita. Immaginiamo che scoprono che come il cinese sia stato dopato e che gli arriva un telegramma e che gli dice restituisci la medaglia. La medaglia torna al Comitato Olimpico Nazionale che decide di darla a chi? Al secondo che gli arriva un bel pacchettino a casa, per corrispondenza, con un bel messaggio, Comitato Olimpico Nazionale, Presidente della Federazione, tutti quanti che dicono il vero vincitore sei tu, questo qui apre tutto bello contento il suo pacchettino e dice che bella medaglia, che bella medaglia, solo che prende la medaglia, cosa gli manca? E non gliela potrà dare mai nessuno l'ossitocina. Lui se la può anche immaginare ma non l'ha vissuta. Perché Ronaldo può fare la più bella punizione del mondo in un campo dove è da solo e non c'è nessuno che l'ha vista. Cos'è che manca? Non è che è figo e dice che bei tiri che so fare, gli manca l'esperienza che per noi primati evoluti è l'esperienza più importante di tutti. Per la motivazione serve l'ossitocina. La dopamina accende, la diavolina che accende, la legna è la serotonina, l'ossitocina è il caldo che c'è in casa e tutti si vogliono bene intorno al camminetto. L'ossitocina è lo scopo finale. Dobbiamo celebrare e condividere le esperienze e più spesso lo facciamo anche per le piccole cose. Che bravo, scuola nuoto, sei riuscito a mettere la testa sott'acqua rispetto a un altro che invece galleggia e quello sta già facendo lo scivolamento con la battuta di gambe. E bisogna celebrare la bravura di un bambino che ha paura di mettere la testa sott'acqua e farlo sentire vincente, farlo sentire capace perché tutti adoriamo vincere da bambini. Gli adulti chi sono? Dei bambini con la carrozzeria d'adulti. Si sono dimenticati, ci dimentichiamo, che siamo bambini esattamente come i bambini. Ho le prove scientifiche perché quando vi ho visti giocare prima, si è stato filmato, eravate bambini con la carrozzeria d'adulti, ma più bambini ancora, ridevate ancora più di loro. O no? O vi sto prendendo per il culo? È così o no? Però bisogna ricordarselo. Benigni se lo ricorda ogni volta che scende in piazza, ogni volta che incontra delle persone, parla di Dante, fa una cosa seria, seria, in un modo molto divertente. Ma seria, seria, ma molto divertente. Com'è che fa? O Simoro. Due opposti nello stesso fenomeno. Opposti insieme. Wow! È il tango del maschio e femmina che fanno un ballo incredibile. È il giorno e la notte che si incontrano, lo yin e lo yang, che si scambiano energia. Chi riesce a interpretare quello che offriamo alle persone a questo sapore, wow! Il mercato, i clienti e soprattutto i nostri istruttori possono entrare in una filosofia in cui capiscono qui vado a scoprire come vivere meglio, non solo come andare sott'acqua meglio. Perché mi costringe questa esperienza a scoprire e ricordarmi che la dopamina, la serotonina e l'ossitocina coltivati nello sport, coltivati in un hobby, coltivati nello studio, coltivati nel lavoro, coltivati in famiglia, non è importante dove li coltivo, io ne ho bisogno. Ci siete? Sono riuscito a trasmetterlo? Ho bisogno quindi di salutarvi con un ultimo messaggio. Quest'ultimo messaggio ha a che fare con un mio amico che si chiama Fabio Zaffagnini. Addice qualcosa a qualcuno? Fabio? No. Zaffagnini? Qualcuno beve Heineken? Sapete Heineken cos'è? Ok. Fabio Zaffagnini è un mio amico di Cesena, geologo del... ha lavorato per le Nazioni Unite, un ragazzo stile un po' hippie, cappellone, un po' stravagante, geologo in giro per l'Italia, circa 40 anni, si è inventato, pensate, si è inventato di fare una roba strana, si è inventato di fare un concerto. Allora è meglio che non ve lo dica. Ah, è vero, è lui. Si è inventato. E da questa storia è nato qualcosa di cui si parla nel mondo. Non si parla dove l'ha pensato lui. di fare un'altra è vero. Oggi hai una nuova di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti